Un pomeriggio abbastanza fresco, siamo intorno ai 3 gradi, qui allo stadio Mario Battaglini, il tempo però è usciuto, anche il terreno di gioco sembra in buone condizioni, per cui insomma i presupposti per una buonissima partita sembra ci siano. Griff pronto a strappare, ancora Giant non contende colorno, adesso lì alla chiusa con Ruggeri che non riesce a imbeccare probabilmente Nicotera, era il terminale del passaggio per cui si ricomincia con un pallone a terra con Lorenzo Cittono, Matteo Ferro pronto a portare avanti il pallone, sostenuto da Nicola Pomaro e Giant si deve togliere, adesso lo fa Alvarado, alza le mani, Nicotera va a spingere sempre in questo lavoro a 3, provo a alzare il ritmo e bravo in questo caso Ruggeri, andare oltre la linea del placcaggio, ancora Paolo Uncini che potrebbe bissare la meta di Calvisano, arriva la meta numero 2 di Paolo Uncini, Uncini che verrà sicuramente confermata anche dagli extra point di sempre Griff pronto a strappare, ancora Giant, ancora non contende colorno, il vivo che ha sprecato una grande occasione circa 10 minuti fa e adesso sta avanzando in maniera forte, prepotente, decisa e direi definitiva con la meta di Jack Nicotera che va a concretizzare il lavoro fatto del proprio pacchetto per cui ha venito Ippolito la sua rincorsa sulle bandierine, la passata stagione è stata una vera battaglia per Rovigo, è andato il buco di Matteo Ferro, c'è un sostegno di Matteo Moscardi, ancora per Matteo Ferro potrebbe essere lui disponibile, Matteo Moscardi però mette il turbo, se ne va, Jaco Van Tonder non ha nulla a che fare con questa velocità del Rovigo, l'idea è uscita con 7 punti cambio di senso di Raffaele, una palla che arriva a Papa giocatore Salentino, ancora Cicchinelli Ceresini, palla fuori per Smith che allarga totalmente per Canni che riesce ad andare oltre il pacchetto Andrea Menetti-Ippolito, diciamo di questo giocatore che viene trascinato fuori ma la palla è ancora giocabile attenzione con la bella corsa e soprattutto l'angolo e la meta da parte del Colorno puntuale con a una mano, prende il pallone Nicotera, il lavoro del pacchetto spinta di Lubian e Pomaro adesso c'è l'avanzamento, Cicchinelli ovviamente con grande esperienza il romano, Rovigo prova ad andare per la quarta meta, arriva una non tanto un toccato ma una meta di penalità per quanto riguarda la squadra rodigina palla è sui piedi al numero 8 per cui si gioca Andrea Menetti-Ippolito con Muscardi, ancora problemi nella gestione del pallone arriva Smith roccioso con Sapuppo, il siciliano che non riesce a dar vita, non riesce a tenere vivo il pallone, ci riprova con Raffaele, ancora Smith trova un ottimo angolo Franco Smith arriva alla meta numero 2 del Colorno un protocollo con Cascio Nomeno per il giovane secondo centro rosso e blu Cittona molto più attivo in questo match attacca più la linea rispetto alle ultime partite l'angolo di Mtianda e il sostegno a parte Paolo Uncini, una prateria per il numero 12 grande francesina e poi il sostegno e la meta di Lorenzo Crasti Cittona certe circostanze negative in fiducia arrivano probabilmente anche gli altri Giant molto sollecitato questo punto di vista riesce anche in questo caso a deludere la pressione portata da parte di Gabriele Cicchinelli e l'avanzamento del drive assolutamente dominante nel corso del primo tempo lo è anche nel secondo con la seconda meta personale di Jack Nicotera prende la rincorsa per gli extra point che arrivano puntuali la presa di Gesi il kick and chase da parte del Livornese litiga col pallone Cozzi sotto la pressione dei giocatori di Colorno adesso Raffaele prova ad innescare la corsa dell'estremo Jaco Van Tonder c'è un vantaggio da parte del Colorno dello stesso Gesi ammette la palla a disposizione con Raffaele dietro Ceresini pallone che arriva direttamente a Silva la palla per Smith prova a trovare un interno su Pomaro poi arriva l'assistenza da parte di Giant Sarto prova ad accelerare Nicotera non vuole lasciarlo andare via ancora nel senso palla fuori la possibilità e la meta di Boccardo punto di bonus qui in quadrato Ceresini sembra ben indirizzato il pallone 2007-2008 giocano una furba i giocatori Rovigo e Pippo Gadorini una prateria la voglia di buttarsi e segnare Andrea Menetti Polito non centra l'H in questa e adesso prova ad andare a attaccare Francesco Modena non ci riesce la possibilità con Simone Gesi una palla che arriva in mano a Matteo Ferro un po' di sanitari in campo che si confondono con l'arbitro cross kick di Andrea Menetti Polito Cozzi fuori scivola Cozzi ha un sostegno interno riesce ad andare oltre potrebbe essere la meta dell'ex mani in faccia di Francesco Cozzi che vuole andare in meta vuole segnare la sua meta personale ad ottenerlo con la quarta segnatura Andrea Menetti Polito un calcio al limite palo dentro speriamo che la situazione sia in fase di miglioramento per dare una linearità attenzione alla corsa e al guizzo da parte del giovane under 20 Emiliano nella massima serie il calcio di Ceresini personali man of the match nel frattempo di questa partita i giornalisti accreditati hanno deciso di dare il premio meglio player of the match a Paolo Uncini l'uso del piede a parte di Francesco Modena ancora a Gesi la pressione di Cioffi sopra più di Rimpettaio Pasini con Ceresini a zero pronto a liberare calcio direttamente fuori il giovane o meglio il giocatore di Casal Maggiore